I primi giorni dell'anno sono stati gli ultimi della vecchia luna calante in quanto dal 5 gennaio siamo entrati nella fase di luna crescente. È per questo che Pierluigi Bonaldi nei pressi di Corfino ha approfittato dei primi giorni del 2019 per tagliare i salici che serviranno poi per realizzare contenitori di ogni genere come panieri, gerle e quant'altro ma anche per legare le viti e tanti altri usi nel mondo contadino. Se questo lavoro il taglio dei tralci lo avesse fatto a luna crescente avrebbero meno durata e sarebbero meno lavorabili soprattutto nella piegatura e anche nella legatura. La pianta è tra le più comuni dell'ampia famiglia del genere salix che comprende circa 300 specie. Quella che vediamo è il salix viminalis. Questo nome ci aiuta anche a comprendere il perché le ceste tessute intrecciate con questi arbusti prendono il nome di cesto di vimini. Nella nostra provincia questa pianta è conosciuta soprattutto con il nome di torchio o salice e sono molto adoperate nel mondo agricolo per legare oltre che per la tessitura degli utensili. La particolarità di questa pianta è che ogni anno viene potata a zero proprio come un taglio totale dei capelli. Infatti Pierluigi taglia completamente i butti della pianta poiché il prossimo anno darà di nuovo altri tralci e altri torchi da lavoro. Sì, il prossimo anno rifanno i butti come dell'anno però è stata un po' la siccità e insomma tanto hanno buttato un po' meno. A noi non resta che attendere qualche settimana per vedere Pierluigi Bonaldi mentre prepara le gerle per la ricerca e la raccolta dei funghi in Garfagnano.